I nutrienti essenziali sono appunto quei nutrienti che dobbiamo obbligatoriamente introdurre con l'alimentazione e che possono essere di varia natura, alcuni sono proprio indispensabili per la sopravvivenza, altri un po' meno, però insomma adesso approfondiamo un pochino. Tra i nutrienti essenziali ne abbiamo di ogni genere specie, da aminoacidi, grassi, le vitamine, soprattutto le vitamine, sali minerali, scorrendo, che sono appunto indispensabili o comunque molto molto importanti per il nostro benessere e la nostra salute.